Sequestrato un patrimonio di circa 5 milioni di euro ad un imprenditore calabrese operante in Toscana nel settore dei rifiuti già arrestato lo scorso anno nell'ambito dell'inchiesta Cheu. Secondo i carabinieri è vicino la cosca crotonese Grande a Racre. I beni sequestrati dai carabinieri del nucleo operativo ecologico e dei nuclei investigativi di polizia ambientale agroalimentare di Firenze si trovano nelle province di Arezzo, Pisa e in Calabria nel crotonese. Secondo gli inquirenti l'attività illecita avrebbe consentito all'imprenditore di accumulare nel corso degli anni un ingente patrimonio e le indagini avrebbero consentito di verificare la vicinanza con famiglie appartenenti all'andrangheta crotonese, in particolare alla cosca Grande a Racre di Cutro. Le indagini si sono concentrate anche sui contocorrenti bancari delle società riconducibili all'imprenditore. Il patrimonio sequestrato comprende numerosi terreni e abitazioni oltre a contocorrenti, società e automezzi che fanno capo all'imprenditore e al suo nucleo familiare. All'imprendita di litigare l'attività o starparano in modo di supplierare la vicine. Grazie.